Per cortesia, non pensarmi di domenica, nei festivi lo sai, sono molto impegnato in Polonia a vendere legno a chi l'ha già, perché anche i sogni costano la metà, il pacco arriva con puntualità, profuma di cantina e di senilità, ti ringrazio per il pesto, ma non scordate la liquidità, i suoi mesi e lo stipendio forse arriverà, ai vostri tempi erano molte le opportunità. Si poteva andare in Cina con un autobus, si faceva il concorso sul consiglio del barroco, oggi non basterebbe un brambiano bel, oggi non basterebbe un brambiano bel. La riforma è quasi pronta, poi potrei tornare, ti ho stirato il gessato e la maturità, ora vedrai, con l'Europond il sole tornerà, intanto prega, noi t'aspettiamo mamma e papà, ora vedrai, con l'Europond il sole tornerà, intanto prega, noi t'aspettiamo mamma e papà.